A Gela, nell'ambito dell'intensificazione dell'azione di prevenzione dei reati decisi dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Chiara Armenia, sono stati effettuati nella giornata di ieri servizi straordinari dai carabinieri del locale reparto territoriale, supportati da personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa e dai militari della Compagnia di Intervento Operativo del XII Regimento Mobile Sicilia, da alcuni giorni a Gela per rafforzare il dispositivo di controllo del territorio. Nell'ambito delle attività in particolare sono state sottoposte a controllo due attività commerciali di ristorazione. Presso entrambe sono state riscontrate irregolarità amministrative relative alla sicurezza alimentare. Per uno dei due ristoranti è stata anche proposta alle competenti autorità sanitarie la chiusura. Nel corso delle operazioni le quasi 20 pattuglie hanno controllato 83 automezzi e identificato 107 persone, nonché elevato 11 contravvenzioni al codice della strada con il ritiro di una carta di circolazione. Sono state eseguite in oltre 16 perquisizioni personali e 5 veicolari, al termine delle quali è stato rinvenuto un coltello di genere vietato, un grammo di hashish e 0,5 grammi di cocaina. Infine, al termine degli accertamenti sono stati segnalati alla Prefettura due soggetti, quali assuntori di sostanze stupefacenti, e all'autorità giudiziaria due persone per guida senza patente e una persona per porto illegale di coltello. Grazie a tutti.